We will live in life, we will live in life, we will fall with you, alleluia! I will live in life, we will live in life, we will live in life Con7. Ciao, siamo Francesca e Donato. Abbiamo cinque figli e siamo sposati da quasi 18 anni. Il matrimonio è un segno prezioso, è l'icona dell'amore di Dio per noi. Questo non significa che l'amore tra i congiugi debba essere per forza perfetto. Nessuno lo è. Ma l'amore tra gli sposi è un processo dinamico che va avanti e migliora nel tempo di una vita intera. Per questo il matrimonio richiede la fedeltà. Il matrimonio è per sempre. Dio è fedele al suo progetto d'amore per noi. Si fida e scommette sulle coppie di sposi cristiani. Il dono del suo amore rende possibile il per sempre per due creature fragili, limitate, ferite, ma create a sua immagine e somiglianza. Quindi destinate all'eternità. Quell'eternità che è il per sempre di Dio. Con il matrimonio si dimostra la serietà dell'impegno tra due persone che si amano. Non volersi sposare vuol dire di non voler rendere pubblico l'impegno. Avere delle riserve, forse non essere convinti, non essere sicuri, non si sta. Questo per sempre è innanzitutto perciò dono. E noi come coppia ce ne rendiamo conto soprattutto quando facciamo fatica, entriamo nella fatica del costruire la nostra relazione d'amore, la nostra intimità, il nostro dialogo. Allora lì abbiamo l'occasione di vedere l'intervento tangibile della grazia. Allora succede che magari uno dei due cuori si ammorbidisce e chiede scusa all'altro. Oppure un sorriso basta a sciogliere magari delle freddezze che si sono create nelle relazioni. A volte succede anche che un figlio con un suo intervento, una sua battuta, una sua coccola riesce ad allentare quella tensione che si era creata. Vedi in questo momento la grazia a gente perché il cammino riparte, riparte la vicinanza. Non bisogna avere paura di fallire. La paura è il più grande ostacolo ad accogliere Cristo e il suo progetto di vita tra noi. La paura. Un ostacolo. State attenti. Allora un dialogo attento, fatto di ascolto, condivisione, comunione e anche di silenzi, permette allo spirito di educare le relazioni, di educare il nostro istinto, di educare le nostre emozioni, i nostri desideri, i sentimenti. E tutto questo permette all'amore di crescere. Le nostre piccole e grandi infedietà quotidiane all'altro, alla nostra onore di coppia, ci rivelano molto chiaramente di che basta siamo fatti e di come sia illusorio la possibilità che noi due riusciamo a costruire qualcosa che sia per sempre, qualcosa che non abbia fine. E' per questo che abbiamo la necessità di lasciarci modellare dalla grazia di Dio. La Chiesa ha tanto bisogno della corregiosa fedeltà degli esposti alla grazia del sacramento. E' necessario che ogni coppia testimoni la bellezza del matrimonio cristiano, anche con le difficoltà e le sfide di ogni giorno. Per noi famiglia è... Fedezza di vita!